ciao a tutti sono marco e mi hanno chiamato per parlarvi di ecologia attraverso i libri ho iniziato parlandovi di un libro che avevo scritto io che si chiama l'ecologia spiegata ai bambini insegnato dalla trama ed edito da becco giallo poi vi ho parlato di dei classici moderni come questo sottoterra dei coniugi misielinski e un semino come me di Anna Matarese e Claudia Polizzi stavolta voglio raccontarvi il tema dell'ecologia attraverso due classici immortali due libri che hanno un po di annetti sulle spalle ma che sono dei libri meravigliosi e che generazioni di lettori in tutto il mondo hanno hanno amato uno è un classico di un grande maestro della letteratura per l'infanzia l'edizione che ho qui io è in inglese ed è il dottor sois che per intenderci anche quello che ha inventato il grinch è l'autore di tantissimi libri il gatto col cappello prosciutte uova verdi libri nati spesso dalla sfida di usare pochissime parole per raccontare una storia che una bella sfida da fare per chi ama scrivere è un bel divertimento e il dottor sois ha voluto in questo caso raccontare una fiabba ecologica e lo ha fatto inventandosi questo personaggio il lorax il lorax vive in una foresta la foresta dei lecci lanici e in questa foresta improvvisamente compare una creatura verdognola anche un po ingannevole che capisce che dai lecci lanici da questi alberi meravigliosi si può trarre anche profitto si possono guadagnare dei soldi devastando quegli alberi il fatto è che non si impone dei limiti questo questa creatura che si chiama chi fu non si impone dei limiti e devasta interamente la foresta rimettendoci anche lui perdendo poi le sue materie prime lasciando che l'arroganza la violenza la prepotenza abbiano il sopravvento ci rimette anche lui ma soprattutto devassa la foresta tanto che gli animali che abitano questa foresta devono fuggire ed è sono inutili nel corso del racconto tutti i tentativi dell'orax di questa specie di folletto baffuto che vive nel bosco e che spunta da sottoterra dagli alberi sono inutili i suoi i suoi tentativi eppure di dissuaderlo chiaramente eppure forse una lezione passa perché questo racconto è all'interno di un racconto più grande che sta facendo proprio che fu a un ragazzino che lo va a incontrare e si capisce forse che lo stesso che fu un po si è pentito di quello di quello che ha fatto e c'è una una locuzione una locuzione chiave a meno che tutto questo tutta questa devastazione tutto questo orrore di un posto che era invece meraviglioso e ricco di creature come i babbalanucchi pesce coristi cigni dolcini si poteva evitare a meno che e questa è la locuzione unless nell'originale a meno che qualcuno non evita che accada e c'è un'ultima filastrocca in questo libro che è tutta in rime un'ultima filastrocca che vi leggo in italiano mi scuso se non sono bravo a recitare in medica è l'ultimo seme te lo do con speranza dei lecci lanici non si può fare senza pianta un nuovo leccio cura la con cura lo con impegno fai crescere un bosco via le asce dal legno ricorda ha bisogno di aria e acqua pulita e loro a se tutti i suoi amici potrà tornare e con loro la vita è un libro che consiglio a chi massica un po di inglese specie tra i genitori di leggere anche in inglese per non perdersi nessuna nessuna rima esiste anche un film anzi ne esistono due il più recente ha il grandissimo danny devito che interpreta la voce originale in varie lingue tra l'altro del dell'orax e in genere consiglio tutte le storie dottor sois perché sono geniali e modernissime nonostante questa storia sia del 71 abito ancora più anzianotta e questa gemma dice il silverstein cioè il silverstein era uno scrittore e non solo era un autore di teatro era un musicista aveva scritto musiche per grandi come mickey jagger e johnny cash ha scritto musica per il cinema ha scritto poesie ha disegnato vignette fumetti era una persona veramente polietica una persona con tante passioni e tante abilità questo libro è stato scritto e disegnato da shell silverstein nel 64 ed è un libro toccante non solo per per i più piccoli ma anche per gli adulti racconta la storia di un albero inizia proprio così c'era una volta un albero questo albero amava un bambino e questo bambino ogni giorno visitava l'albero e giocava tra i rami dell'albero raccoglieva le sue foglie usava le foglie per intrecciarle e farci una corona e giocare a essere il re della della foresta giocava arrampicarsi ma man mano che il bambino cresce l'albero e il bambino si allontanano e l'albero restava spesso solo questa solitudine dell'albero è molto malinconica anche perché le volte che il bambino non più bambino ormai torna dall'albero è sempre più adulto è sempre più egoista e sembra sembra che si sia sempre più dimenticato della dell'amore reciproco per l'albero eppure eppure alla fine questo albero c'è ancora per questo bambino anche quando questo bambino è ormai un vecchio ha bisogno di un ceppo dove sedersi e riposare e nonostante tutto l'albero è felice quando questo bambino ormai anziano non più bambino è di nuovo lì con lui questa storia è toccante e commovente io ve l'ho riassunta molto velocemente mi auguro che la possiate leggere così come possiate leggere gli altri libri che ho consigliato e sia questa che il lorax hanno forse un tema in comune quello dell'apporto tra l'uomo e la natura di come lo sfruttamento della natura lo sfruttamento selvaggio fatto magari solamente per profitto o per ferocia per voracità per ambizione questa questo questo sfruttamento deve avere un limite e questo limite deve essere imposto altrimenti si di per quote sull'uomo stesso come ci racconta il lorax nonostante questo la natura sa essere continua essere clemente verso l'uomo e continua a amare l'uomo come racconta invece l'albero sono dei libri come dicevo ormai un po vecchiotti ma non sembra perché le storie che sono state scritte 40 50 60 anni fa continuano purtroppo essere l'attualità perché il tema del rapporto tra l'uomo alla natura è un tema ancora di più centrale oggi se oggi in questi in questi giorni in queste settimane in questi mesi stiamo combattendo una pandemia probabilmente si deve anche a qualcosa che non è andato bene nel rapporto tra uomo e natura e in particolare tra l'uomo e certi animali che portano dei virus che possono poi essere trasmessi all'uomo vuol dire che c'è qualcosa che non va bene nell'urbanizzazione forzata cioè nel trasformare improvvisamente delle campagne in città c'è qualcosa che ci porta a fermarci a riflettere e a riconsiderare il nostro rapporto con con la terra con gli alberi e con gli animali spero che questi ultimi consigli siano stati di vostro gradimento spero che siano che siano utili mi auguro che queste queste storie che ho selezionato in questi tre video possono essere utili non solo agli adulti genitori insegnanti non solo ai bambini ma soprattutto agli adulti ecco mettiamola così per quello che dicevo nel video precedente queste queste lezioni sul rapporto tra uomo e natura sul rispetto dell'ambiente sulla scoperta di quello che ci circonda e la bellezza ci circonda di come noi possiamo interagire con questa bellezza se la impariamo noi adulti possiamo consegnare a chi verrà dopo di noi un mondo migliore o quantomeno più pulito grazie a tutti